È un'iniziativa molto importante che io ho voluto realizzare perché per la prima volta andiamo a parlare degli orrori, ma degli orrori del presente, per cui parliamo del 1992. Ancora non era stato fatto niente, quindi io mi sono attivata, ho cercato dei giornalisti che potessero venire qui. Mi sono attivata con l'Istituto di Storia Contemporanea, con il Vice Sindaco, che quel giorno saranno presenti con noi, per spiegare ai nostri ragazzi che cosa è successo in questo paese vicino a noi. È una cultura a 360 gradi che noi cerchiamo di dare ai nostri ragazzi, non solo in ognostronomia. Mercoledì 7 marzo ci saranno i ragazzi grandi, quindi quelli di Quinta, del Vergani e del Navara, che incontreranno questa giornalista bosniaca che viene a raccontare cosa è successo. È una storia molto recente e che andrebbe studiata. Quest'anno il viaggio della memoria è con una parte, ma lo faremo anche con l'Istituto Alberghiero. Il prossimo anno probabilmente andremo a Sebrenica. I ragazzi sono rimasti sconvolti. Sconvolti perché il nostro viaggio della memoria a Sebrenica hanno toccato con mano che eravamo geograficamente, storicamente vicinissimi, perché solo nel 92, e anche le guide, le persone, il libro della scrittrice che sarà con noi il giorno 7 appunto, l'abbiamo letto proprio in preparazione al viaggio a Sebrenica, sentire, toccare con mano che erano persone che hanno vissuto questo. La scrittrice a un certo punto dice, improvvisamente io ero l'altro. Dice che noi andavamo a scuola musulmani, cristiani, ebrei, tutti insieme, non sapevo neanche che la mia compagna di banco potesse essere cattolica o non. Eravamo i ragazzi normali, improvvisamente i nemici. Quindi una guerra incredibile. E' giusto che ne parliamo, ma soprattutto in momenti come questo, me lo lasci dire, il nostro lavoro, il lavoro della scuola, è proprio di raccontare il presente attraverso il passato. Dal punto di vista della musica si può ricordare con dei brani, visto che il repertorio viene evolto a un pubblico giovane, sia con una parte di musica colta che con una parte di musica leggera. Un paio di brani, uno, Il mondo che vorrei, di Pausini, il testo impregnante proprio, vogliamo eliminare la guerra. L'altro brano, L'alleluia di Cohen, che travalica la religiosità e qualche cosa di supremo, un occhio che ci dia una mano dall'alto. Terzo brano, invece, un brano di musica colta, Il Pietà Signore, attribuito a Stradella. E anche qui è la fallibilità dell'essere umano a essere messa in gioco. Ultimo brano, La Vergine degli Angeli, secondo atto della Forza del Destino, proprio per dare una benedizione generale ai presenti che travalica anche qui la religiosità.